Chi sono i Vescovi? Nelle lezioni precedenti abbiamo parlato della figura del Papa, dei Cardinali, del Conclave, del Concistoro. A questo punto parliamo degli Arcivescovi e dei Vescovi nella Chiesa Cattolica. Chi è un Arcivescovo? Un Arcivescovo è un Vescovo che presiede un'Arcidiocesi, cioè è un Vescovo che presiede una diocesi importante. Essere Arcivescovo invece che Vescovo non comporta un'ulteriore ordinazione, è lo stesso grado del Sacramento dell'Ordine. Quindi la distinzione tra Vescovo e Arcivescovo non è di carattere sacramentale ma di funzione nella Chiesa. L'Arcivescovo non è più importante di un Vescovo, semplicemente si chiama Arcivescovo il Vescovo che è il pastore di una diocesi importante chiamata Arcidiocesi. Veniamo adesso alla figura del Vescovo nella Chiesa Cattolica. Partiamo dagli abiti. Come potete vedere anche il Vescovo indossa la talare, questo lungo abito che è tipico degli ecclesiastici cattolici. A sinistra vedete infatti se il Papa indossa una talare bianca, un lungo abito bianco, i cardinali una talare nera con accessori color porpora, invece i Vescovi della Chiesa Cattolica indossano una talare nera con accessori bottoni e orli di color paonazzo, cioè di ola scuro. Vediamo nel dettaglio. L'abito lungo talare è nero con orli color paonazzo, anche i bottoni, la mantellina chiamata pellegrina nera con orli paonazzo, lo zucchetto stesso colore paonazzo e anche la fascia. Anche i Vescovi hanno un abito corale, ne abbiamo già parlato quando abbiamo affrontato discorso degli abiti dei cardinali. Che cos'è l'abito corale? È una veste ecclesiastica utilizzata dal clero cattolico ma anche da quello anglicano. Prende il nome dal fatto che l'abito indossato quando si assiste a una celebrazione liturgica, alla liturgia delle ore, quando si amministrano dei sacramenti, al di fuori però della messa. Quindi l'abito corale è un abito che viene indossato quando ci sono dei momenti liturgici, dei momenti di preghiera, ma al di fuori della messa. Il termine Vescovo deriva dal greco e significa supervisore, sorvegliante. I Vescovi cattolici godono dell'appellativo di eccellenza reverendissima. Ciò vuol dire che quando ci si rivolge a un Vescovo bisogna chiamarlo eccellenza oppure eccellenza reverendissima. Vediamo quali sono le insegne vescovili. La mitria. La mitra, mitria è un termine che sembra essere una deformazione popolare. La mitra è un copricapo di forma allungata e con due punte, usato dai vescovi, dai cardinali e dal papa durante le celebrazioni liturgiche. La mitra è una delle insegne che vengono consegnate al Vescovo il giorno della sua ordinazione episcopale. La mitra ha fatto la sua comparsa in occidente intorno al X secolo. In passato ha avuto forme diverse, a cono o come una cuffia arrotondata e schiacciata al centro. La mitra che vediamo oggi invece ha una forma, diciamo a soffietto, è formata da due pezzi di stoffa rigida che terminano con una punta e uniti parzialmente nella parte laterale. Che cosa rappresentano le due punte della mitra? Simboleggiano l'Antico e il Nuovo Testamento, le due parti della Bibbia. Durante la messa la mitra viene indossata in sei momenti. Durante la processione d'ingresso, durante la proclamazione delle letture, tranne il Vangelo, l'omelia, l'amministrazione del sacramento, la benedizione finale e la processione di congedo. Quindi un vescovo, quando celebra la messa, non porta sempre la mitra da inizio alla fine, ma soltanto in sei momenti. Perché la mitra ha due strisce posteriori? I due nastri di tela posteriori si chiamano infole o vitte e sono l'evoluzione dei nastri che in passato servivano per allacciarla sotto il collo. Anche la mitra segue i colori liturgici? No, la mitra è sempre dello stesso colore. Un'altra insegna vescovile è la croce pettorale. Ogni vescovo porta sul petto un crocifisso. Poi abbiamo l'anello vescovile. Esso è, insieme alla croce pettorale, uno dei segni più visibili dei vescovi cattolici. L'anello del vescovo è segno di fedeltà di quest'ultimo alla chiesa e per i credenti anche il segno della fedeltà di Dio stesso al suo popolo. Un anello vescovile può essere d'argento, d'oro, con o senza pietra preziosa. Il pastorale. Il pastorale è un bastone simbolico, dall'estremità ricurva e spesso riccamente decorata, usato dal vescovo nei pontificali e nelle cerimonie più solenni. Preso dal mondo della pastorizia, si basa su riferimenti evangelici come quello in cui Gesù che si autodefinisce buon pastore. Il pastorale, il bastone del pastore che guida e difende le sue pecore, simboleggia che il vescovo è il pastore della diocesi, cioè colui che deve occuparsi dei fedeli di quella porzione del popolo di Dio. Data questa simbologia, che richiama il legame forte tra il pastore e il suo popolo, il vescovo può usare il pastorale solo all'interno dei confini della propria diocesi, mentre non potrebbe usarlo qualora presiedesse delle liturgie in un altro territorio. Il pastorale, cioè, è legato alla missione del vescovo nei confronti dei suoi fedeli e non all'episcopato in genere. Abbiamo detto che un vescovo è il pastore della diocesi, cioè colui che deve occuparsi dei fedeli di quella porzione del popolo di Dio. Ma se il vescovo è il pastore dei fedeli che vivono all'interno di una diocesi, che cos'è una diocesi? Per diocesi si intende una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato da alcuni sacerdoti. Quindi il vescovo è il responsabile, il pastore di tutti quei cristiani cattolici che vivono all'interno di un territorio. Quel territorio prende il nome di diocesi. Facciamo un esempio. In questa cartina vedete le 21 diocesi della regione Lazio, cioè dal punto di vista cattolico il territorio della regione del Lazio è diviso in 21 territori. Ogni territorio prende il nome di diocesi ed è sotto la guida di un vescovo. Ad esempio in alto, provincia di Viterbo, vedete che in rosa c'è la diocesi di Viterbo, vuol dire che quel territorio, quei fedeli che abitano in quel territorio, sono sotto la guida di un vescovo, il vescovo di Viterbo. Civitavecchia e Tarquinia in verde è la diocesi di Civitavecchia, c'è un altro vescovo e lui ha giurisdizione sui fedeli di questo territorio. Quindi se il Lazio è diviso in 21 diocesi vuol dire che ci saranno 21 vescovi, ognuno ha giurisdizione nel proprio territorio. Facciamo anche un altro esempio. La freccia indica la diocesi di Frascati in verde. In base a quello che abbiamo detto, cosa vuol dire diocesi di Frascati? Vuol dire un territorio chiamato diocesi in cui ha giurisdizione un vescovo, il vescovo di Frascati. La diocesi di Frascati, detto in un altro modo, è l'insieme delle parrocchie sotto la guida del vescovo. In questo caso la diocesi di Frascati è un territorio che non è altro che la somma dei territori delle 24 parrocchie. Quindi tutti i sacerdoti che sono parrosci in queste parrocchie hanno come loro superiore il vescovo di Frascati. Questa cartina invece mostra le 223 diocesi in cui è divisa l'Italia. Guardate, il territorio italiano è come se fosse un grande puzzle. Ogni pezzo del puzzle è sotto la guida di un vescovo. Questa è un'organizzazione della Chiesa Cattolica. Ogni paese è diviso in diocesi e la diocesi, a capo di ogni diocesi, c'è un vescovo. Che cos'è invece una conferenza episcopale? Per conferenza episcopale si intende l'insieme dei vescovi di una nazione o di un territorio determinato. Facciamo un esempio. Conferenza episcopale italiana è l'insieme dei vescovi italiani. Conferenza episcopale italiana è spesso abbriviata in CEI. Che cos'è la CEI? Appunto è l'insieme dei vescovi italiani. Qui infatti vedete Papa Francesco che si è riunito con la conferenza episcopale italiana, cioè tutti i vescovi italiani. Se il Papa invece si riunisce con la conferenza episcopale tedesca vuol dire che incontra tutti i vescovi del territorio della Germania.